Casi ancora sotto quota mille ma percentuale del rapporto test positivi che sale al 18% a fronte del 10,55 di domenica. Sono 788 su 4.377 tamponi processati i casi di coronavirus riportati dal bollettino epidemiologico pugliese del 21 dicembre. Con questo dato il totale dei contagi nella nostra regione sale a 81.387 di cui 53.574 attualmente positivi, 25.603 guariti e 2.210 deceduti. Al calo degli attualmente positivi, che sono circa 300 meno del 20 dicembre, fanno da contraltare i 31 decessi, dei quali 13 a testa sono stati registrati nel Barese e nel Foggiano, 3 nella Bat e 2 nel Tarantino. 1.055 sono i nuovi guariti. Scende ancora il totale dei pazienti ricoverati, che sono 1.595 a fronte dei 1.605 del report precedente. E scendono anche i quarantenati, che passano da 52.267 a 51.979. Su scala provinciale, il dato più alto del 21 dicembre è rappresentato dai 422 nuovi positivi al Covid registrati nel Foggiano. Il totale dei pazienti emersi in Capitanata da inizio pandemia è ora di 18.066. 237 sono invece i nuovi contagi nel Barese, zona nella quale il dato complessivo sale a 31.327. Ben più bassi i numeri delle altre province. Nella Bat i nuovi casi sono 62 ed il totale 9.414. Nel Tarantino, nel Leccese e nel Brindisino si scende sotto i 50 nuovi contagi. In provincia di Lecce i nuovi casi sono 33 ed il dato complessivo 6.381, mentre 17 sono i nuovi contagi sia nella zona ionica che in quella messapica. Il dato complessivo della provincia di Taranto sale a 9.716 pazienti registrati. Quello della provincia di Brindisi a 5.942. A completare il quadro, un residente fuori regione. 963.643 è il totale dei tamponi processati in Puglia.